Diamo il benvenuto a Giovanni Torrente, docente di sociologia del diritto presso l'Università di Torino e membro del direttivo nazionale di Antigone. Antigone è la notissima associazione per i diritti e le garanzie del sistema penale che da 40 anni si batte per i diritti delle detenute e delle detenute. Annualmente Antigone redige un rapporto sulle condizioni di detenzione e l'ultimo di questi rapporti, il sedicesimo, lo ha chiamato con un termine evocativo il carcere al tempo del coronavirus. Da questo rapporto emerge una situazione di fatto agghiacciante. Questa situazione ha fatto dichiarare a Rita Bernardini, che è presidentessa di Nessuno Tocchi Caino e Radicale, una frase forte, o si svuotano le carceri o sarà una sentenza di morte. Qualche giorno fa su tutte le principali testate giornalistiche alcuni noti intellettuali hanno voluto proseguire questa iniziativa di Rita Bernardini, che è cominciata con uno sciopero della fame, urlando la denuncia della situazione carceraria in questo momento in Italia nel periodo del Covid. Partiamo proprio da qui. Professor Torrente, qual è attualmente la situazione delle carceri italiane? Anzitutto buonasera, grazie a voi per l'invito. Ma allora la situazione delle carceri italiane è piuttosto complessa, nel senso che le carceri italiane, è noto, soffrono dell'endemico problema del sovraffollamento. Il sovraffollamento è un problema abbastanza diffuso, in più o meno in tutte le carceri europee, ma è particolarmente diffuso in Italia. I tassi di sovraffollamento italiane non a caso ci hanno portato nel 2013 a ricevere una condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo, laddove la Corte ha ritenuto che tassi così elevati di sovraffollamento, insieme ad altre caratteristiche strutturali del sistema, costituiscono di per sé un trattamento inumano e liberante, insomma, letto in parole povere, costituisce un caso di tortura. La popolazione detenuta in Italia in questi anni ha fatto un po' così, saliescenti. Abbiamo tutt'oggi un grave problema di sovraffollamento, no? Che era in parte diminuito proprio in occasione della prima ondata della pandemia. In occasione della prima ondata della pandemia, a legislazione pressoché invariata, i pochi strumenti introdotti dal legislatore hanno avuto un impatto minimo, ma la legislazione pressoché invariata era iniziata a diminuire il numero di detenuti. Fondamentalmente grazie a due fattori principali. Una diminuzione degli ingressi della libertà, quindi di più delle volte meno arresti da parte delle forze dell'ordine, e una maggiore tendenza alla concessione di misure alternative da parte della magistratura di sorveglianza. Questo, come dire, circolo virtuoso sostanzialmente si è interrotto con la fine della prima ondata della pandemia. E lì la popolazione detenuta ha ripreso nuovamente l'aumento. Ora capirete che in tempi di distanziamento sociale una comunità sovraffollata è quanto, come dire, di peggio si possa immaginare, no? Perché chiaramente il sovraffollamento incide su mille aspetti della quotidianità detentiva e anche quindi sulla possibilità di distanziamento e di adottare forme di prevenzione. Poi, nella prima ondata possiamo dire che tutto sommato, a parte alcuni casi, il sistema ha retto, nel senso che molti di noi temevano che le carceri diventassero davvero come delle RSA di luoghi totalmente travolti dalla pandemia. Questo, obiettivamente, nella prima fase non avvenuto. Popolazione più giovane, ovviamente, rispetto alle residenze per anziani, insomma. Una chiusura, per definizione, delle istituzioni rispetto all'esterno. Probabilmente molti casi asintomatici che non sono stati rilevati, insomma, no? Anche qui, un po' come accade per la pandemia fuori, la situazione è un po' a macchia di leopardo, insomma. Ad esempio, il carcere di Torino, città in cui io vivo, è stato già nella prima fase colpito in maniera significativa dalla pandemia. Un po' più grave appare adesso la situazione nella seconda fase. Metti il fatto che ci sono più tamponi, metti il fatto che la serrata è stata meno severa, oggi le carceri sono più colpite, i numeri del contagio, sono naturalmente significativi. E con la differenza il fatto che, rispetto alla prima ondata, questa tendenza alla netta diminuzione dei numeri, oggi non sta accadendo. Oggi il sistema è ancora significativamente, fortemente sovraffollato e soprattutto appunto quella ripresa dei numeri che è cominciata ad arrivare con l'arrivo dell'estate, di fatto non è cessata. Questo naturalmente induce preoccupazione, no? Il sovraffollamento è di per sé qualcosa di ingiusto. Quando all'estero ci confrontiamo con colleghi stranieri e cerchiamo di spiegare che in Italia per dieci posti disponibili ci sono alle volte quattordici, alle volte quindici persone, spesso l'interlocutore rimane un po', come dire, basito, ma se ci sono dieci posti come fanno a starcene quindici? Ecco, di per sé è una condizione giusta. Ovviamente in tempo di pandemia è anche qualcosa di pericoloso. Naturalmente non dimentichiamo che i soggetti fragili in carcere sono tanti, pensate all'elevata percentuale di persone con problemi di dipendenza, pensate alle persone che hanno patologie magari non così gravi da indurre a un'immediata scarcerazione, ma di media gravità che nel momento in cui contraggono la malattia diventa molto molto difficile. Poi c'è un altro aspetto dell'ultimo che poi le lascio la parola, è una tendenza da parte dell'amministrazione penitenziaria. Allora in carcere a mio parere, questa è una mia opinione personale, si sta manifestando quello che molti settori caratterizzano in negativo alla pubblica amministrazione in Italia, cioè una scarsa capacità di organizzazione centrale volta alla prevenzione dei fenomeni. E' accaduto in carcere quello che è accaduto in molti settori della pubblica amministrazione, cioè il fatto che in assenza di un coordinamento centrale, razionale, preparato, insomma tutto quello che vogliamo, si sia lasciato molto spazio alla capacità l'inventiva dei singoli. Il problema è che i singoli, come dire, affinché l'inventiva dei singoli possa funzionare è necessaria una serie di condizioni che non ci sono mica dappertutto. In Lombardia, il provveditore della Lombardia, persona particolarmente attenta da subito, nella prima fase aveva richiesto l'intervento di medici senza frontiere per dare un aiuto al sistema cancellario. In Piemonte, ad esempio, questo non è avvenuto, insomma. E sono poi, come dire, scelte, capacità, sensibilità che non sono solo qualcosa di teorico, qualcosa di organizzativo, è qualcosa che poi ha un impatto reale perché vuol dire appunto capacità di intervento e capacità di prevenzione. A fronte di una situazione che, insomma, senza voler esagerare possiamo definire preoccupante se non drammatica in voi come osservatorio avete segnalato almeno 20 situazioni critiche su tutto il territorio nazionale e noi abbiamo la sensazione che non tutto quello che sta succedendo è chiaro e cristallino, nel senso che probabilmente c'è una mappatura dei casi che non è ancora completa. La soluzione che è stata messa in campo fino ad oggi dalle istituzioni è quella del blocco dei colloqui, cioè la negazione di fatto degli affetti dei colloqui con... A questo proposto io le vorrei raccontare un piccolo aneddoto che è successo a noi, nel senso che è carne viva della nostra esperienza. Rispetto al calendario dei colloqui di novembre questo calendario è uscito soltanto il 30 ottobre, un ritardo che in quel momento nessuno ha saputo spiegarci perché questo calendario non fosse stato pubblicato. Pertanto siamo riusciti a prenotare una sola visita la prima settimana di novembre. Quando poi ci siamo recati la prima settimana di novembre per prenotare le altre visite di fatto abbiamo trovato un agente della polizia penitenziaria all'ingresso davanti a decine di parenti che ci diceva guardate non si possono più prenotare i colloqui sono interrotti. nessuno ci aveva avvisato, non c'era nessuna comunicazione sui siti ufficiali, noi abbiamo di fatto scoperto tra capo e collo in una bruttissima mattina, assieme a decine di altri parenti, che da quel momento in poi erano stati vietati, c'era stato il blocco dei colloqui totalmente vietati. Ora, al netto dell'iter che io francamente avendolo vissuto sulla pelle mi permetto di definire disumano, il blocco dei colloqui, cioè negare gli affetti alla popolazione carceraria, sapendo che gli agenti e il personale entra ed esce dal carcere, sapendo che i colloqui e chi li ha svolti lo sa bene, hanno tutta una serie di vincoli comportamentali, di assoluti controlli, questo, il blocco dei colloqui, secondo lei è una misura giusta? Ma allora, devo dire che anche qui il discorso è complesso, nel senso che... Allora, partiamo dal... partiamo dall'ordinario, no? Avrete visto, entrando a far parte, a relazionarvi con il mondo del carcere, che quel diritto ai colloqui stabilito dall'ordinamento penitenziario, che prevede un certo numero di ore mensile dedicate ai colloqui dei detenuti cosiddetti ordinari, con le persone care, di fatto poi è raramente rispettato. È raramente rispettato per queste questioni organizzative di cui parlava prima, no? Per il fatto che non ci sono posti disponibili e quindi si viene rimandati a 20 giorni tra un colloquio e l'altro, per il fatto che una volta si facevano quelle terrificanti code davanti al carcere, adesso per fortuna ci sono le prenotazioni, insomma... una cosa incredibile in base alla quale, appunto, la norma prevede un diritto sacrosanto, se io fossi detenuto domani, ma così come se fossi in ospedale, la prima cosa che desidererei è avere le persone care, insomma, poterle vedere il più possibile, no? Il diritto sacrosanto che, come dire, nella prassi quotidiana è spesso violato. anche attraverso un processo di disumanizzazione, io ho alcuni colleghi che hanno un po' studiato questo aspetto, cioè la disumanizzazione del familiare, no? Uno dei nostri maestri si chiama... Mi permetta di dire la punizione, cioè sembra quasi che si debbano punire anche gli affetti, anche i familiari. Assolutamente, in qualche modo anch'essi colpevoli di qualcosa, sì. Dicevo, un nostro maestro, si chiamava Massimo Pavarini, ci diceva che è intrinseca al carcere la cosizzazione delle persone che vi transitano. Le persone che vi transitano diventano qualcosa di meno rispetto dagli esseri umani, qualcosa simile appunto a delle cose, no? A delle non persone. Ecco, quello che davvero spesso sembra è che i familiari stessi diventino qualcosa di meno rispetto a dei soggetti portatori di diritti, ma se le quali appunto in nome del fatto che siamo in emergenza o altro ci si possa permettere, nel vostro caso, di informarli davanti alla porta del carcere del fatto che quel giorno non si potranno fare i colloqui o in altre occasioni, o ore e ore di attesa all'ingresso, a armadietti dove vengono lasciati i beni, il portafoglio, le chiavi della macchina o altro, per i quali non c'è un lucchetto e poi si viene derubati, o mille altre forme di vessazione che appunto niente dovrebbero avere a che vedere con il fatto che lo Stato sta infligendo una punizione. Insomma, quindi quella cosizzazione che va un po' a toccare non solo la persona detenuta, ma anche tutto appunto il mondo che dice la terra. E questo, come dire, è il primo aspetto terribilmente ingiusto. Poi appunto la chiusura. Io devo dire che su questo, se il carcere fosse quel luogo normale che non è e non può essere, io non mi scandalizzerei del fatto che vengono interrotti i colloqui visivi con le persone all'esterno. Non mi scandalizzerei per il fatto che tutti noi tutto sommato viviamo in questa condizione oggi, no? Frequentiamo molto meno le persone care, vediamo molto meno i nostri genitori o altro, le persone ad esempio che sono in un ospedale non vedono le persone all'esterno. Viviamo in una situazione incredibile. La nostra differenza tuttavia, rispetto alle persone detenute, è che noi quando vogliamo possiamo utilizzare questo strumento che abbiamo davanti, no? Io e lei possiamo aprire il computer, parlarci e avere un colloquio. Non è la stessa cosa rispetto a vederci in un bar, bere un caffè e darci una pappa sulle spalle. Ma in questa precisa fase storica è lo strumento alternativo che tutti possiamo utilizzare e ci fa in qualche modo anche sentire meno soli. I miei figli quando sentivano la mancanza dei nonni durante il primo lockdown accendevano il computer e salutavano i nonni, no? Ecco, la vera cosa ingiusta dal mio punto di vista non è tanto che delle persone oggi non possano entrare in caccia. E' il fatto che questo strumento, che sarebbe ragionevole in questa fase, un detenuto non lo possa utilizzare. Se non con degli enormi limiti, se non in condizioni eccezionali, se non in casi eccezionali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, laddove, aggiungo un aspetto, laddove in diverse parti d'Europa si sta sperimentando la possibilità da parte delle persone detenute di usare il proprio smartphone per comunicare con l'esterno, laddove si incomincia a non demonizzare la tecnologia all'interno delle carceri, al contrario in Italia viene inserito proprio da ultimo un reato che punisce penalmente chi introduce un cellulare in carcere. Questa è la vera follia che rende ancora oggi le carceri dei luoghi medievali, ma come d'altronde non possono non essere, insomma. E questo però è il vero dramma, ecco appunto, ripeto, non mi scandalizzerei del fatto che una marea di persone non possa andare in caccia per i colloqui se le persone dentro potessero usare questo strumento, in questo specifico momento storico dovuto alla situazione che stiamo vivendo. Professore, mi permetta di citargli un passaggio della lettera che lei conosce, che avete inserito nella vostra cartina geografica della situazione italiana, che è la lettera delle detenute della terza sezione del carcere di Torino, quella dove c'è Dana, che è lettera che hanno scritto ad Amnesty International per denunciare la situazione. In particolar modo le vorrei leggere questo passaggio, che è il passaggio sulle pene alternative. Nonostante l'esistenza di leggi che propongano un'alternativa alla carcerazione e quindi una risoluzione sia al problema del sovraffollamento sia a quella del reinserimento sociale, troppo spesso non vengono applicate perché sono soggetti alla discrezionalità del magistrato competente. Crediamo fermamente che il diritto ad accedere a tali benefici dipenda tanto dalla volontà del reo quanto a coloro che fanno parte dell'area trattamentale. In primo luogo però è competenza del magistrato di sorveglianza credere nell'effetto rieducativo della pena. Qui a Torino invece, oltre alle mura del carcere, ci scontriamo con il muro della severità di alcuni magistrati. Questi ultimi tendono a non applicare le misure alternative, sminuendone così l'importanza e sminuendo inoltre i percorsi rieducativi che un detenuto intraprende. Si comportano come pubblici ministeri, hanno un atteggiamento inquisitorio, comportamento che si evidenzia anche davanti a sintesi comportamentali lodevoli, buona condotta per capirci. Ma non solo, pur avendo diritto e le carte in regola si contano più rigetti che accoglimenti delle nostre istanze. Insomma, noi ne sappiamo qualcosa con Dana. Tutto ciò è contraddittorio rispetto alle finalità della pena, che per la Costituzione dovrebbe essere rieducativa e rispettosa dei diritti. E quindi le chiedo, professore, oggi come definirebbe il sistema carcerario? Può essere davvero definito rieducativo? E in seconda battuta, qual è secondo lei il valore che effettivamente oggi il Tribunale di Torino dà alle misure alternative? Allora, che il carcere possa essere rieducativo è ormai ampiamente dimostrato che è impossibile. Il carcere non è uno strumento rieducativo, non l'ho mai stato e probabilmente mai lo sarà. Il carcere è uno strumento di punizione. Quello è. Non occorre raccontarci storie. La finalità rieducativa è stata qualcosa che, lodevolmente anche il nostro legislatore, ha inserito prima in Costituzione e poi nell'ordinamento penitenziario, appunto per cercare di favorire processi di reinserimento sociale. Con un'evidenza, con un'evidenza che è nota, che è nota a tutti, che è il fatto che là dove dei successi vengono raggiunti, vengono raggiunti attraverso l'utilizzo di strumenti differenti rispetto al carcere. Certo, certo. Qual è però il problema? Non è vero che le misure alternative in Italia non hanno avuto applicazione. Ce l'hanno avuto. Ce l'hanno avuto a fasi alterne, ce l'hanno avuto un po' come il carcere, con un andamento abbastanza oscillante. Purtroppo le misure alternative hanno vissuto, e vivono tuttora, all'ombra del carcere. Cioè, il carcere è ritenuto, un po' da tutti temo, come la, come dire, come la condanna. Si è stato condannato a mesi e anni di carcere. Vivi per cui, per accedere a una misura alternativa, occorre in qualche modo meritarselo. In questi anni, purtroppo, quello che è accaduto è che, come dire, le condizioni per meritare una misura alternativa sono sempre diventate più gravose. Si parlava nella lettera del comportamento, della condotta interna. Il problema è che non basta. È stato introdotto il criterio della, come dire, della revisione critica del proprio comportamento. È stata introdotta la necessità di risarcimento nei confronti delle vittime. È stata introdotta la necessità di un percorso graduale verso il beneficio della misura alternativa. Questo determina il fatto che, soprattutto per chi è in carcere, perché ancora in libertà, è un pelo più semplice, ma soprattutto per chi è in carcere, l'accesso a una misura alternativa è davvero una corsa d'ostacoli, che diventa per la gran parte delle persone molto difficile. Cosa succede poi? Poi succede il fatto che, in particolari momenti nei quali il clima sembra un pochino più favorevole alla scarcerazione, il clima generale, non solo politico, un clima più generale, più favorevole alla scarcerazione, vi è la dimostrazione che laddove appunto il clima è favorevole, c'è spazio, c'è spazio eccome per aumentare il numero di misure alternativi. da marzo a giugno di quest'anno sono aumentate come il numero di persone che è andata in misura alternativa, ma perché in qualche modo si è ritenuto che in quella situazione l'obiettivo principale fosse in qualche modo diminuire i numeri della popolazione alternativa, salvo poi tornare indietro. e poi naturalmente, come dire, lì le dinamiche dentro il gioco sono tantissime. Purtroppo, purtroppo, io ho l'impressione, su questo la letteratura in Italia non ha ancora fatto studi adeguati, ma ho l'impressione che in alcuni uffici di sorveglianza ci sia un fortissimo timore su che cosa possa accadere. Voi pensate che un giudice di sorveglianza raramente finisce in tv perché ha fatto delle indagini rilevanti, perché non si tratta di pubblici ministeri che finiscono agli onori della cronaca per aspetti positivi. Quando ci finisce, ci finisce per un modo negativo, perché la persona a cui ha dato una misura alternativa magari trasgredisce in maniera più o meno grave. E quindi chiaramente che ci sono spesso forme di prudenza eccessiva, chiaramente eccessiva, ma non solo e non solo e soltanto per la colpa dei giudici, per un sistema che in qualche modo ponte a puntare il dito nel caso in cui le cose vadano male. scordandosi, peraltro, che le cose vanno male in pochissimi cambi. Le tassi di revoca delle misure alternative in Italia sono molto, molto, molto bassi. E ancora di più i tassi di revoca perché le persone commettono dei reati sono davvero residuali, davvero molto, molto bassi. Quindi è un sistema complesso in base al quale ogni tanto abbiamo delle aperture, salvo poi richiudersi per i più svariati motivi. Quindi facendo una battuta, chi di noi vorrebbe finire da essere l'immagine dietro Giletti con il dito puntato contro il presentatore che dice quella è la persona che ha scarcerato il mafioso di turno, ma alle volte non è necessario scarcerare il mafioso di turno, basta aver scarcerato la persona che poi in maniera insospettabile fa, combina qualcosa nel momento che è qui. C'è un punto. Chiaramente c'è molto spazio per aprire, per dare più misure alternative, però ci dovrebbe essere anche un sistema generale che in qualche modo favorisce questi gesti, che non dovrebbero essere gesti di coraggio, dovrebbe essere ordinari. Mi corregga se sbaglio rispetto a quello che diceva. Lei sta dicendo che c'è un sistema di fatto che al netto, cioè oltre la sentenza di per sé, è un sistema che subisce l'influenza di una serie di fattori esterni o interni al sistema, ma esterni alla causa in sé. Quindi il sistema repressivo, carcerario e l'applicazione delle misure alternative vive, come dire, di una serie di pressioni che arrivano, diciamo, dal mondo esterno, dal sistema in sé, dicevamo. Perché oggi, e siamo in un momento molto molto particolare, sia per l'endemico e lo storico problema del sovraffollamento, sia ovviamente per la presenza della pandemia, e credo non vi sia un luogo peggiore in questo momento, a parte forse l'RSA per le persone anziane, nel quale vivere se non un carcere. Perché in questo momento non vengono prese delle misure adeguate ad affrontare efficacemente questo tema? Siamo, come dire, la pandemia non ci ha liberati da un fenomeno che è stato definito come populismo penale, che ormai da più di vent'anni, ma credo ormai 30, caratterizza la discussione sui temi penalistici in tutta Europa e nel Nord America. Che cos'è il populismo penale? Il populismo penale è un fenomeno in base al quale il tema alarme e criminalità, il tema paura, il tema sicurezza, sono diventati argomenti spendibili all'interno della contesa elettorale o della contesa politica del quotidiano. Oggi a noi sembra scontato che i vari attori del campo politico si scannino gridando al lupo al lupo, correndo dietro a ogni forma di emergenza legata alla sicurezza, all'immigrazione, alla criminalità. Ci siamo in qualche modo abituati che le campagne elettorali si fondino su questi argomenti. In realtà questo è un fenomeno abbastanza recente, degli ultimi 30 anni circa. il tema allarme e criminalità è diventato qualcosa che può aumentare o peggio diminuire il consenso agli autori del campo politico. Questo ha avuto effetti perversi in mille campi, in davvero mille campi. non è mai stata fatta, ad esempio nel nostro paese, la riforma del codice penale. Il codice penale italiano è ancora del 1930. Non è stata fatta una serie riforma dell'ordinamento penitenziario. perché nel momento in cui questi temi, che dovrebbero essere di per sé tecnici, che dovrebbero essere mossi da una razionalità tecnico-comme dire, scientifica, mi vorrebbero dire, diventano oggetto del dibattito politico, di stampo populistico e spesso mi consenta becero. Quindi, come dire, il problema, anche nella relazione alle varie rieste di amnistia o di indulto che vengono presentate in maniera certo condivisibile, è il fatto che hanno pochissime possibilità di riuscita per il fatto che gli attori politici che si manifestassero, come dire, favorevoli a un provvedimento di amnistia verrebbero massacrati sui vari social media, sui vari, all'interno dei vari organi di informazione, dopo due secondi. Forse i non addetti ai lavori non si ricordano cosa è successo a seguito dell'indulto del 2006. È nata una rappresentazione collettiva in base alla quale immaginavamo che le nostre città fossero invase da persone liberate dal carcere pronti a rapinare le nostre case o a... Sulla di tutto questo stava accadendo. Ma nascono questi fenomeni di panico collettivo in base alla quale poi si pensa che il pericolo di turno sia il detenuto scarcerato piuttosto che il migrante che arriva con una nave, insomma. La follia dentro la quale siamo collocati è esattamente questa, insomma. E poi impedisce di fare reforme che è certo che sarebbero razionali, insomma. Per dire, il sistema delle misure alternative nel nostro paese ha un grosso problema, Monte, per il fatto che il codice penale prevede che le sanzioni, la sanzione principale sia la privazione della libertà e quindi il carcere. Tutte le alternative al carcere sono interpretate nel nostro sistema come dei benefici, appunto, delle alternative rispetto al carcere. Ma questo genera il fenomeno di cui ne parlavo prima, il fatto che, appunto, il carcere e la pena, le alternative sono l'ombra, un beneficio, appunto. Questo sistema andrebbe radicalmente modificato favorendo un sistema di sanzioni plurime, no? Questo non viene fatto, non è fatto, perché, come dire, è un tema delicatissimo che porterebbe tutti gli avvoltoi che ruotano all'interno dell'area della sicurezza a lanciarsi sulla preda in maniera spietata, insomma. E questo purtroppo è uno schema da cui è difficile uscire, ecco, insomma. Lei ci disegna un quadro e devo dire che trovo molto felice la sua definizione di populismo penale, perché davvero ci restituisce un po' tutto quello che è il peso politico che ha la vicenda, anche quella ovviamente carceraria, del sistema carcerario e quanto poi noi possiamo vederla. E a questo punto, io proprio su questo, non posso che con lei entrare a gamba tesa sul tema che è un po'... ci muove, che è quello sicuramente della condizione carceraria, ma noi non possiamo non chiederle una chiave, una sua chiave di lettura sulla vicenda che riguarda Dana e non solo Dana, come sappiamo. In questo caso abbiamo una manifestazione pacifica, un megafono, circa 700 euro di danno, tra l'altro ad una società scrivibile ad autostrade, non che questo... un processo di otto anni, due anni di reclusione, senza poter utilizzare la condizionale, nonostante non ci fossero altre condanne definitive. Abbiamo a settembre il Tribunale di Sorveglianza che rifiuta tutte le misure alternative, ma non basta. Abbiamo un secondo rigetto in piena pandemia ad ottobre, sempre del Tribunale, e le motivazioni sono la necessità di un periodo rieducativo. Questo giusto per citarla quando prima diceva che secondo lei il termine rieducativo con il carcere non ha niente a che vedere, non possiamo che essere d'accordo, ma citiamo, come dire, pedissequamente quello che viene scritto da un magistrato che parla di necessità di un periodo rieducativo. A noi viene un po' da ridere, io sono un collega di Dana, e Dana di mestiere fa l'educatrice, quindi capisce bene quanto il paradosso sia tutto tondo. Qual è la chiave di lettura? Perché noi, come dire, persone che sono attorno a Dana, magari tra di noi c'è anche chi non è troppo dentro una serie di dinamiche, anche politiche, vorremmo parlare a tutti, ecco, il nostro obiettivo è quello di riuscire a raccontare questa vicenda, provando a dare una chiave di lettura, perché una persona comune, una persona che magari non conosce anche le dinamiche che si sono ingenerate all'interno del movimento Notav, quello che è accaduto rispetto ai movimenti sociali nel territorio torinese, fa fatica a spiegarsi quello che è successo a questa donna, a questa ragazza, quello che è successo a lei, ma ci teniamo a dirlo, che succede analogamente a tante e tanti altri come lei. Qual è la sua chiave di lettura su questa vicenda? Sì, le chiave di lettura sono diverse, insomma. Beh, innanzitutto, collegandoci a quello che dicevamo prima, insomma, se noi vivessimo in un sistema dove sono previste delle peni alternative, non delle misure alternative, forse si potrebbe escludere a monte che una persona condannata per un reato, insomma, è sicuramente bagatellare, possa prevedere come sanzione per quel reato al carcere, insomma, quindi il primo problema è questo. Poi ce ne sono altri, ce ne sono diversi, insomma, il dato di fatto è che uno, come dire, è incredibile che una persona con una condanna così poco significativa possa realmente trascorrere la propria condanna in carcere. Tuttavia, come dicevo all'inizio, non è così raro. ancora oggi abbiamo una significativa percentuale della popolazione detenuta che ha una pena in residuo inferiore all'anno e che per diversi motivi non accede alla misura alternativa. Quindi purtroppo anche questo, ci troviamo all'interno di qualcosa che è incredibile perché ci colpisce, ma non è così raro, virgola, purtroppo. poi il fatto a me, come dire, il fatto che nella decisione venga previsto il prosieguo del trattamento educativo, risocializzativo, rieducativo in carcere, non stupisce per il fatto che, mi era capitato anche di scriverlo in un libro, tutta l'esecuzione penale pare fondarsi su una finzione, no? Ci sono documenti, relazioni che prendono il nome di relazioni di sintesi, fascicoli che vengono aperti o altro, in qualche modo come se tutto questo fosse vero, no? C'è una norma che prevede il trattamento penitenziario in carcere e allora tutti gli attori della giustizia penale ci si comportano come se questo trattamento educativo risocializzativo avvenisse realmente, all'interno di una gigantesca finzione che appunto farrebbe venire da ridere se non ci fosse la piange. Poi nel caso specifico della decisione nei confronti di Dana a me c'è un aspetto che come dire ho trovato particolarmente significativo il fatto che tra come dire i motivi volti a giustificare la non concessione della misura alternativa vi fosse l'assenza di una revisione critica no? Da parte della della condannata e ci troviamo davvero di fronte a qualcosa che questa idea della revisione critica sempre più richiesta sempre più con maggiore frequenza adottata come un presupposto necessario da parte della magistratura di sorviglianza ha nella realtà quotidiana davvero numerosi aspetti perversi perché la revisione critica dovrebbe essere all'interno di un ideale modello pedagogico in qualche modo prendere coscienza del fatto che la propria condotta è qualcosa di legittimo qualcosa di negativo e si tratta di qualcosa che potrebbe essere anche astrattamente condivisibile laddove noi ci trovassimo in una condizione di diritto penale minimo dove quotidianamente gli operatori del carcere si confrontano con dottorine e propri aggregati no certo che probabilmente ha un senso richiedere a una persona che ha commesso gravi reati un percorso di revisione perché come dire altrimenti è difficile ipotizzare una forma di risocializzazione ma come chiedere una revisione critica alle persone alle veramente migliaia di persone autrici di reati prettamente bagatellari commessi più delle volte per condizioni socio-economiche davvero estremamente marginali cioè io ho frequentato un po' le carceri e davvero la larga parte delle persone che ho incontrato negli anni erano persone che penso a tutti i migranti che chiedevano soltanto la possibilità di averlo un lavoro ma quale tipo di revisione critica devono fare insomma certo che spacciare è sbagliato però come dire forse avrebbero bisogno di altro più che di pentirsi per avviare un un reale percorso di risocializzazione no e poi in questo caso mi permetta sembra addirittura vista vista la qualità diciamo del reato quasi una biura di natura esatto questo è poi il passo ulteriore cioè nei confronti di che ha commesso un reato dettato da un un orientamento politico ideologico chiamiamolo come vogliamo io posso capire che nei confronti di esponenti delle brigate rosse potesse avere un senso un discorso di revisione critica di determinati comportamenti estremamente evidenti ma come pensare che possa avere senso nei confronti di appunto un'attività politica che fino a prova contraria non può essere considerato di per sé un crimine no e questo davvero l'incongruenza di fondo cioè ritenere l'adesione a un movimento sociale o un movimento di protesta molto si discute fra scienziati della politica se il movimento notab sia un movimento di protesta o un movimento sociale ma ritenere che l'adesione a questo movimento costituisca di per sé un elemento di pericolosità tale da richiedere una revisione critica è davvero qualcosa di non condivisibile accidenti il problema è che però appunto laddove queste formule vengono adottate in maniera quasi burocratica da parte di alcuni decisori diventano davvero il motivo buono per non dare la misura alternativa e questo è davvero abbastanza sconfortante noi stiamo facendo una sorta di carrellata che in realtà il movimento notab segnala da anni dalla tesista che è stata indagata perché nella sua tesi studiando il movimento notab ha partecipato ad alcune iniziative ad un cronista che è stato coinvolto come testimone in un processo da alcuni ragazzi che come dire erano stati indagati per iniziative notab lui da essere testimone di un processo di fatto diventa accusato e subisce anch'esso un processo dal quale anch'esso è stato assolto cioè stiamo raccogliendo tante di queste storie che le dico sinceramente e laicamente ci stanno dando un pochino un polso di una situazione da parte del tribunale di Torino abbiamo un po' la sensazione che ci sia una sorta di mi passa il termine crociata da questo punto di vista cioè che non ci sia serenità nel giudicare tutto quello che arriva da quell'ambito lì stiamo notando come dire quale sia la sproporzione nelle pene nelle indagini in quello che accade rispetto a questo movimento sì indubbio che ci sia assolutamente una reazione io mi è capitato anche con alcuni mie tesisti particolarmente bravi di seguire alcuni processi alcuni casi anche da ultimo la vicenda della richiesta dell'applicazione di misure di sicurezza nei confronti dei ragazzi che erano andati a combattere contro l'isis insomma sicuramente una richiesta di interventi sproporzionati rispetto alla natura dei fatti questo è indubbio è indubbio sì credo che questo appunto a menti fredde sia davvero poi qualcosa su cui indagare davvero perché appunto è evidente appare evidente agli occhi di molti il fatto che il processo appunto a prescindere dal fatto che si possa essere d'accordo o no con le ragioni del movimento notab il processo di criminalizzazione è indubbiamente qualcosa di inaccettabile di gravissimo la ringrazio molto professor Torrente grazie mille arrivederla arrivederci alla prossima